Come sapete a Stromboli sta succedendo il casino, il casino dove c'è stato un incendio, adesso c'è stato pure cos'è, è successo il casino, si è distrutto tutto, il casino. Ma io dico, e se rispondeva pure il vulcano, non era peggio? Beh, il vulcano comunque se esplodeva la lava non poteva raggiungere il paese, essendo che sul lato c'è uno scivolo dove scende di là la lava. Oltre con la lava, poi con lo scivolo è formato dalla lava che è scesa e perché anche perché il buco nello Stromboli è inclinato, quindi però i lapilli sarebbero arrivati. Quello sarebbe stato un grande problema per tutti quanti? Beh, non poteva rispondere il vulcano ovviamente sotto la pioggia, però una probabilità ci poteva essere. Ovviamente non poteva esplodere come un vulcano pazzesco, quindi non lo so, tipo questo vulcano. Però poteva essere qualcosa di meno, cioè di meno pericoloso. Vabbè, meno male che non è successo, speriamo che non accada, che sennò poveri stromboliani.